È bellissimo battere una squadra di così alto livello e soprattutto fare un gol, anche perché è stato il mio primo gol in questo torneo. È veramente magnifico. Una vittoria, però eravamo sicuri che gli avversari non erano facili e li abbiamo affrontati al meglio. È bellissimo stare in questo gruppo, anche perché tutti siamo d'accordo, tutti si muovono, cambiamo le posizioni, siamo sempre d'accordo e è magnifico. Forza Lugano! No, è stata una grande emozione, ma soprattutto penso che nelle due gare, sia quella del girone, che questa qui dei quarti finale, penso che abbiamo dimostrato, anche se siamo una piccola realtà, di giocarcela con tutti. Secondo me è un obiettivo raggiunto e adesso ci divertiamo a giocare le semifinali. Sì, condivido questa affermazione qua, in quanto noi fin dal primo momento ci siamo preposti come obiettivo quello comunque di una crescita costante, tant'è che abbiamo portato tutti i bambini, non abbiamo bambini selezionati, lavoriamo col materiale umano che c'è e quindi vedere questo gruppo crescere in un anno per me è un grande motivo di soddisfazione. Teo faccio sognare! Teo faccio sognare! Teo faccio sognare! Teo faccio sognare! I grazioni e i preferi protagonisti sono loro! Teo faccio sognare! Lugano! Grazie!